Il liceo classico scientifico linguistico Sciasciafermi di Sant'Agata Militello ha ospitato questa mattina la visita del sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Davide Faraone. Una scelta significativa, quella della scuola santagatese, nell'ambito del tour del sottosegretario negli istituti italiani. Quando si cambia tanto c'è un po' di preoccupazione all'inizio. Devo dire che dopo abbiamo potuto registrare un clima molto positivo. Quando si investe sulla formazione degli insegnanti, quando si investe sull'alternanza scuola-lavoro e quindi il collegamento con le imprese, anche con i musei o con i siti culturali. Quando si fanno una serie di azioni positive, si investono 3 miliardi e mezzo di euro sulla didattica e quasi 4 sull'edilizia scolastica. Credo che soltanto elementi di positività si possono raccogliere. Per cui ora i tour che stiamo facendo per le scuole italiane ci stanno dando questo senso di rafforzamento della nostra idea. A fare gli onori di casa, insieme all'amministrazione comunale, la preside del liceo Sciasciafermi, Larissa Bollaci. All'incontro erano presenti anche il senatore Bruno Mancuso e il deputato regionale Pippo Laccoto. L'onorevole Farone ha proprio scelto questa scuola proprio perché il liceo Sciasciafermi rappresenta il polo liceale uno dei più grandi denebrodi. Da questo noi percepiamo come le istituzioni tengono conto del rilevo educativo, dello sforzo, dell'impegno che la scuola di questa area di provincia non ha le stesse opportunità delle scuole ubicate in centri urbani. Ma noi cercheremo di offrire ai ragazzi le stesse opportunità per migliorare il loro futuro. Il governo deve necessariamente guardare a quelli che sono gli obiettivi, la filosofia di questa buona scuola che è quella di formare una nuova classe dirigente e mi pare che su queste linee ci siamo perché ci sono dei principi fondamentali in questo testo che ancora deve essere completato perché ci sono dei decreti attuativi ancora da realizzare che certamente darà i suoi frutti non nell'immediato ma negli anni futuri.